Fere, 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 ci hanno chiesto di andare a investigare nella serra qui di fronte quella lì super enorme e super famosa Perché i giardinieri questa notte hanno sentito dei rumori strani E sai com'è? Le piante di solito non fanno rumori Eh no, tecnicamente non parlano neanche Si sono spaventati parecchio e ci hanno chiesto di andare a dare un'occhiata Sei pronta? Ti avverto già che sarà una serra davvero particolare con delle piante che non hai mai visto prima Ok, è bello, no? E quindi sarà super interessante Mi piacciono le piante fiori Tu però fai finta di essere esperta Ok, ok, ma io sono esperta Questa erbaccia, come si chiama, fere? Erbaccia Ok, ma il nome tecnico? Erbaccia No Erbaccia, erbaccius No, fere, lo sai che si usa sempre in latino? Erbacficius, capito? Erbaccia lasterbaccius Riproviamo Questa qua, come si chiama? Grano granorus Quasi Bello, vero? Graniris, capito? Ah, ok Era quello, per una lettera che sbagli, capito? Dai, mi sembra che hai capito Siamo pronti, andiamo nella serra Si, andiamo Bella esperta di piante, mi raccomando E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Stef Che se gioca a Minecraft Benvenuti nel nuovissimo episodio di Minecraft In cui tornano gli investigatori Stef Fereniki Anche oggi siamo qui pronti a risolvere un nuovo mistero Esatto E quindi andiamo in questa bellissima serra Sì, però questa volta abbiamo a che fare con delle piante Io non ho mai conosciuto una pianta assassina Beh, sì, in effetti di solito erano dei mostri Delle creature strane Esatto Quindi non so bene cosa ci attenderà oggi Stef Abbiamo affrontato un lupo manaro Abbiamo affrontato un vampiro Oggi affrontiamo un fiore Mi sembra un po' più semplice Come si dice Magari però C'è qualche creatura che si intrufola la notte nella serra Magari un insetto minuscolo fortissimo Da queste parti ci dovrebbe essere una signorina che ci aspetta Allora, buongiorno Perché tutta la serra è davvero enorme e gigantesca Giustamente E c'è Julie Ciao Stef e Ferre Vi stavo aspettando Ciao Julie Ciao Lo so che ci stavi aspettando Ci hai chiamato E noi siamo venuti il prima possibile Vi ho chiesto di venire nella mia serra Perché i miei giardinieri hanno sentito degli strani rumori questa notte Sì, lo sappiamo Julie Infatti siamo venuti il prima possibile proprio per quel motivo Dici qualcos'altro Ciao Stef e Ferre Vi stavo aspettando Sì, lo sappiamo Forse un po' si inceppa Che dici? Scusi Ok Vi ho chiesto di venire nella mia serra Sì, davvero? Non lo sapevo Beh, avanti Beh, avanti Sono qui e si ripetono sempre le stesse cose Si è rotta Vabbè Si è rotta Grazie Julie Daremo un'occhiata nella serra Ah no, a me dice le cose giuste Dato che giravoce che nessuno è più bravo di voi come detective Ok Spero che riuscirete a darci una mano Ah, ok Vabbè Perfetto È vero, siamo bravissimi Allora Ferre Sì, sì, sì Comunque vedi sei tu che l'hai rotta Stef Ci parlo io Mi dice le cose normali Sei tu che l'hai messa in soggezione Iniziate a parlare con nomi Ferre, non è vero Ha detto questo non capisce nulla e non è riuscito a parlare Io ho pensato Ok, siamo degli investigatori Ma non capita tutti i giorni di venire in una serra così speciale Quindi facciamoci prima di tutto un po' un tour Tanto nel mentre noi diciamo che stiamo guardando gli indizi Farei capito Sì, sicuramente Tu fai finta Ah, sì, lì probabilmente è successo qualcosa Probabilmente ruberò anche qualche pianta Stef Te lo dico già Ok, però non farti vedere dei giardinieri che si arrabbiano Sono tanti poi Quindi srutta la versione investigatrice per poter guardarne mentre le piante bellissime Pronta? Sì, pronta Allora, andiamo da questo lato Da questa parte abbiamo un sacco di fiori che io non ho mai visto in vita mia Strabelli Vieni a vedere, Fede Sì, molto belli Sono di uno spettacolo incredibile Posso entrarci, Stef, secondo te? Oh O mi vedono e mi dicono qualcosa Non c'è nessun cartello, quindi teoricamente possiamo No, Stef, non si calpestano mai i fiori e l'erba, scusa Lo sa chiunque, scendi, dai Va bene, va bene Guardiamo e non tocchiamo Ok, ok, ok Comunque questi fiori bellissimi Poi qua ce ne sono ancora più belli Sono davvero fantastici Sì Ma a me la cosa che piace di più di tutto Sono queste sorte di iane nei fiori Vedi, tipo nelle foglie degli alberi Ah, sì Guarda che spettacolo Cavolo, queste le voglio Vero? Sono troppo belle Sono bellissime Ma sono tutti belli i fiori Sinceramente non saprei scegliere Ci sono tante specie molto particolari Tanto non devi scegliere Non li puoi rubare, Fede Sì, qua probabilmente è passato Sì Vero, Fede, hai visto? Ci sono delle impronte particolari Non è stato questo giardiniere a lasciarle No, assolutamente È stata una bestia terribile Guardi, giardiniere, continuiamo a cercare Ci stiamo concentrando molto Sì, li risolveremo il vostro problema Non vi preoccupate Sì, sì, sì Potete stare super mega tranquilli Ma non mi vedono, secondo me Dai, che vuoi fare? Ne prendo uno Vai Questa arancione Tanto ce ne sono tanti di questi Ok, vai Ok Sì, piano, piano Ok Andiamo via Andiamo via Andiamo via Lo portiamo a casa Andiamo dall'altra parte Vediamo se ci sono dei fiori diversi Eh, sì, è vero Da quella parte potrebbe esserci il colpevole Andiamo a controllare Sì, sì Ok, eccoci Sì, è vero Sono tutti diversi Sono diversi Belli, belli Vedi Cosa? C'è un ananas gigante Lo vedi? Ma che ci fa un ananas qui? Non c'entra nulla E probabilmente coltivano anche gli ananas Sì, ma non c'entra niente in mezzo a dita Ma secondo te si può mangiare? Non lo so, non credo però Che buono Eh, ma qua c'è troppa gente Cioè, mi sembra un ananas un po' strano Mi vedrebbero, mi vedrebbero Meglio non rischiare Vabbè, continuiamo a guardarci un pochettino Che belle che sono queste piante Guarda queste Vieni, 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 vieni Lo so che non dovremmo scavalcare Ma non mi frega nulla Guarda queste qua Eh, queste sono Vero? Steph, coprimi le spalle Fede, fede Queste me le prendo io Me le prendo io Eh, sono troppo belle Questa è rischiosa Questa mi sembrava ben più rara e più bella Sono molto belle Però non ho resistito Non è che magari stavolta è stato uno dei giardinieri A combinare un disastro Dice che dovremmo interrogare i giardinieri? Eh, magari non lo vuole dire Capito? Perché se ne vergogna Eh, perché io non vedo niente di strano, Steph Cioè, negli altri villaggi abbiamo sempre trovato degli indizi molto evidenti Subito, 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 subito Esatto, qui non c'è niente Almeno un indiziato, almeno un qualcosa, un indizio C'era sempre qualcosa Un'impronta, capito? E invece qua non c'è mai nulla Però è proprio bella Vieni a vedere da qui Cioè, dall'alto è spettacolo È proprio bella, è proprio bella questa sera Davvero una spettacolare E poi E guarda questa parte è ancora più bella Vabbè, Steph, ok Abbiamo No, vabbè, è bellissima, è bellissima Io voglio vivere qui dentro e fare la regina dei fiori Perché mi piacciono molto Fede, ma tu sei la regina degli animali E dei fiori Sempre natura, eh, Steph Eh, non vale O prendi i fiori, o prendi i dolci, o prendi gli animali Tutte e tre La regina dei fiori, dei dolci e degli animali Non è che bisogna avere solo una scelta nella vita, Steph Bisogna averne tante Eh, ma di solito, sì Comunque Dimmi Elaboriamo un piano, non lo so Che dobbiamo fare? Allora Secondo me Ok Che vuol dire? Per la prima volta i due investigatori migliori del mondo Non hanno la minima idea di che cosa sta succedendo Perché non siamo gli investigatori migliori, non è solo quello Ce l'ha detto anche Julie Perché poverina, l'hanno informata male, capito? Forse non gli è arrivata la notizia dell'ultimo villaggio Di Patrizia Di Patrizia che è ancora in giro Vabbè Quella non è stata colpa nostra Non eravamo pronti Però Quello che stavo dicendo è che appunto Io non ne ho idea Cioè non ho visto nulla di particolare Nulla di strano Sì, ci sono delle piante strane, particolari Bellissime Ma io non so Cioè allora siccome è successa la scorsa notte Magari ci accampiamo tipo qui fuori Aspettiamo che si faccia notte E cerchiamo di osservare E capiamo se sta succedendo qualcosa Secondo me la cosa migliore Perché non avendo indizi Non è che abbiamo tanta scelta Sono d'accordo, sono d'accordo Allora però Aspetta Ci serve una scusa Per andarcene Ok con Julie Perché comunque Allora adesso ci chiederanno Ok ma dove state andando Ok tu non li puoi dire Non è che dobbiamo rimanere due ore qua Sì ma non li puoi neanche dire Non ho trovato nulla Ascolta Diciamo che abbiamo trovato qualche indizio Che ci sta portando a investigare Un po' qui fuori In mezzo agli albi No Non ho pensato ancora di meglio Ok Abbiamo notato delle strane impronte E stiamo andando di nuovo a casa nostra A prendere delle lenti migliori Bravo Per analizzare meglio le prove Questa è una bella idea Ok Questa è una bella idea Ok Secondo me funzioni ci crederanno Seguimi eh Mi raccomando Andiamo andiamo Devi essere brava Perché se ti intendi Se ne accorge subito Ok Allora Pronta Inizia a parlare Eh sì Fere comunque Si sono notate diverse impronte Diversi indizi Guarda Non credo che avremmo difficoltà A scoprire chi è stato Anche caduto dalle scale Però No non sono caduta Perché sto pensando troppo al colpevole Quindi non riesci In ogni caso Giuli Senta allora Abbiamo trovato un sacco di indizi di prove Guarda A bizzef Si vede proprio che è successo qualcosa Qui stanotte L'abbiamo notato subito Cose bruttissime Però ci servono degli attrezzi Che abbiamo lasciato a casa Proprio perfetti Per analizzare questo genere di impronte Ok va bene Si è messo a parlare col giardiniere Parli col giardiniere Che è meglio Perché bisogna innaffiare i fiori Arrivederci Guarda io mi sono preso una spada Perché sinceramente Oh cavolo io non ho portato nulla Una serra di notte Così a me un po' di ansia me la mette Eh anche perché A me non c'è più nessuno Eh esatto Da soli Non lo so Steph Andiamo Perché io non sento ancora rumori strani Però sai come è un po' inquietante No no io ho paura È tanto bella di giorno Quanto inquietante di notte Ok Ok Mi sembra tutto a posto no? Sì Sì non credo che ci sia niente di strano Salgo un attimo di sopra Ok Ok Allora ti lascio qua Io vado a vedere No no però muoviti Steph Non voglio stare da sola sotto Ferre nel caso urla va bene? Ok Ok Allora c'è qualcuno qua? Julie? No Ferre Sembra che non ci sia più nessuno Né giardiniere né Julie Sembra Aspetta 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 Che succede? A me sembra di aver visto un giardiniere Steph Steph Ferre Ferre Qua è comparto una pentacarniva la Ferre No Steph non hai capito Ferre che succede? È successa una cosa molto brutta Non c'è più il giardiniere Ferre Secondo te dove è finito? Ma è qua Ferre Ma come è uscito fuori? Mi sembrava se non fosse mangiato la pianta Per fortuna Perché ho visto quella pianta Oh mamma mia Steph che facciamo? Aspetta Prima di tutto Creo Una via di fuga Per il povero giardiniere Scappa pure Ci pensiamo noi qui No in realtà Non ci vorrei pensare minimamente Non vuole Ascolta Steph Lascialo qua Lascialo qua Fatti gli affari i tuoi Scusami Lui va dove vuole A te ha tofri la lingua Però mi sono avvicinato Ferre Il giardiniere si sta avvicinando Non ci andare E non ci tornare Ma scusa Ma che cervello hai caro mio Vattene Scappa via Ma che Cosa vuole fare Steph? Morire Ecco cosa vuole fare Comunque questo è quello che ci attende Se ci avviciniamo Steph Continua a farla Continua a farla Adesso ho scoperto Cosa erano i rumori Questi qua Con la loro bellissima serra Hanno preso delle piante carnivere E manco se ne sono accorti Eh esatto Tanto che Giulia era esperta Cari miei Forse hanno trovato Adesso tocca a noi Affrontare sta lingua brutta Qualche pianta esotica C'è anche io la lingua Hai visto Ti spacco Io vado Io Dobbiamo trovare un piano Steph Non va bene spaccare tutta la serra Dobbiamo trovare un piano Allora abbiamo capito che si compare Ma almeno non si può muovere Cioè rimane ferma Quindi è diciamo una cosa A nostro vantaggio Perché non ti salta addosso Fere Dimmi Torna a casa Ok Che cosa odiano le piante? Il fuoco? Non lo so Vai a prendere un accendino Fere Ok Mettiamo fuoco a tutta la serra No 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 Non me ne frega nulla No Steph no Disinfestazione di massa Fere No no lo faccio Non lo faccio Dobbiamo risolvere il problema Dalla radice Proprio perché sono piante Quindi dalla radice Capita? Era terribile Non provare a fare le battute Meglio della tua Meglio della tua del fuoco Scusami Però vuoi qualcosa di più sobrio Allora io direi di tornare a casa Di armarci bene E di tornare Ma Fere non cambia nulla Guardala Cioè io adesso guarda Anche avendo una spada Mi avvicino Magari è una spada un po' più forte Beh è di ferro È buona Capito? Cavolo è cattivissima È cattivissima Il rumore che fa quando cerca di morderti È terribile Cavolo Però Stef Cioè dopo Patrizio Dobbiamo almeno sconfiggere Questa pianta Non possiamo Vai Stef Ce la fai È morta? Bravo Bravo Stef Vedi che si può fare Ok Ok Ma è finita? Abbiamo risolto? No perché ce ne sono altre Stef Io adesso non so bene dove siano Però E dove Fere? Non ti consiglio di camminare Così allegramente In mezzo alle piante Stef Oddio Eccola lì Eccola lì No Fere sono due Come due? Sinistra e destra Ma che cavolo Cioè sono pieni Sembrano i guardiani della serra Cioè ho capito che volevano fare la serra Con le piante esotiche strane Ma qui non ho sbagliato Cioè non se ne sono proprio accorti Stef Non so cosa fare Dimmi che hai preso delle armi Certo sono andata a prendere le armi Le vuoi vedere? Sì Un arco Un accendino Come avevi chiesto Ho detto dato che la situazione è tragica Se proprio va tutto male E poi la mia arma preferita È un'ascia Da battaglia Gigante? Sì Ok Vai tu Vado Ho paurissimo Se mi dai l'arco io sconfiggio quella a destra Ok Vieni Ti do anche delle frecce Anche perché sappiamo che tu non sei molto mirata Ti bastano? Le due altre? Spero che bastino A meno che non sia tipo immortale Vado Ok vai tu a sinistra e vado a destra Fuoco Paurissimo Non ce la voglio fare Aia Te fa malissimo Cavolo Ho solo 4 cuore di vita Ma siamo pazzi? Ferre Ho trovato il loro punto debole Qual è? Odiano gli archi Ferre Ferre Aia Che male Ho risolto Ma non ci credo Cioè basta solo una freccia Sì il problema è che ne abbiamo solo altre 15 Aiuto Steph Mamma mia No fanno troppa paura E me ne voglio andare Me ne voglio andare Da sta parte La vedi La vedi Allora Smettila Fai paura Io ho quasi tutti i cuori Ci provo? Sì Aspetta 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 Vado No 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 Ferre Ferre Che succede? Allontanati Vieni 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 Che succede? Da bravo dai Ecco qua Ecco qua che ovviamente dobbiamo distruggere la serra Steph Ops Volevamo provare a sfruttarlo per la pianta carnivora Capisci? Sei una persona terribile Una buona idea Comunque ci provo eh Vai Vado È bellissimo quando tenta di mordere Visto da fuori Non so neanche come ho fatto prima Steph che stai a fa? Mi sto nascondendo Girati un attimo guardami È la tua fine questa eh Perché? Scendi 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 Bravo Perché ti avrei dato fuoco Ok 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 Mettila Allora Ci vuoi riprovare? O provo io? Cioè che dobbiamo fare? Dammi con l'accendino Dai Ok Vai Con gli accendini sono bravi Io ho avuto una bruttissima esperienza Non la voglio rifare Lo so Ho notato Dammi l'arco È ancora l'arco? Sì Dammi l'arco e le frecce Che magari cerco di aiutarti se proprio va male Eh ma non vorrei sprecarle Perché io non so quante piante carnivore ci sono ancora qui No infatti ti ho detto solo Potrebbe essere l'ultima come se ce ne sono ancora 45 Solo nel caso in cui vada malissimo Allora A distanza Ok Espanditi fuoco Hai dato fuoco a un'altra pianta Sei ritirata? Ah no che era una coincidenza Non me ne frega niente Aspetta 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 Sai che il fuoco non funziona Steph Ok Vediamo vediamo Espanditi fuoco Valle addosso Ok Stai ci Aia Non lo so Steph Mi vengono i brividi Mi sembrano i moony Non so che dirti Cioè non mi sembra che funzioni Sì Allora La tiro e tu spari Ok Vai Vado Spara Vado Spara Ok una Ok l'altra Due Ok Dovremmo ricordarcelo questo Che per una volta abbiamo trovato Il punto debole del mostro Cioè siamo stati bravi Stavolta Vedi che Vedi che Stiamo imparando Hai preso danno Steph Cosa ti sei mangiato? L'ananas Io te l'avevo detto di non toccarla Qua hanno cose strane Steph Ti ho detto di non toccare niente Sono rimasto con un cuore di vita E di non mangiare nulla Ho avuto paura Però c'è un'altra Smettila non te la mangiare Allora Steph Io direi di fare un ultimo controllo Per vedere se ce ne sono altre Che dici? E beh per forza Così poi magari diamo Cioè la buona Tra virgolette notizia Giulie Non possiamo Dopo questo buco Io non so quanto possa essere buona È il minimo L'errore l'hanno fatto loro Non si sono accorti di avere Piente carnivore E non me ne frega proprio nulla Tu muoviti piano piano Eh sì Perché lo sai che l'infarto È sempre dietro l'angolo A me Non mi sembra vero? Sembra di no Ma non voglio cantare ancora Vittoria No Qua no Sembra tutto a posto Per fortuna Non hanno esagerato E non li hanno messi ovunque Cioè ci saremmo bancato solo quello Fare 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 Già si è mangiata un giardiniere Vabbè quella però è stata una triste Vabbè è stato il giardiniere Però è un po' sciocco eh Beh ragazzi Dici tutto Lasciateci un bel like Questa è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare il video di iscrivervi Per non fare dei video in altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.